Parlare di squadra da battere no, sicuramente vogliamo fare un campionato da protagonista, vogliamo essere una delle protagoniste perché poi alla fine ci sono altre realtà che stanno comunque allestendo delle buone squadre e vogliono comunque far bene anche loro. Io credo che il Manfredonia sicuramente sarà una delle 3-4 squadre che punteranno a fare delle belle cose. Fabio Moscelli, dopo l'esperienza in Serie D ad Andrea Gravida e Bitonto, ha deciso di scendere di categoria per sposare l'ambizioso progetto del Manfredonia e ha accettato con grande entusiasmo la proposta del neopresidente Giuseppe Di Benedetto. La scelta è stata fatta anche perché è una piazza importante, c'è un progetto importante, si vogliono fare le cose fatte per bene. Il Presidente Di Benedetto ha dato il mandato sotto l'aspetto tecnico a noi e a me e al mister De Candia. Sicuramente se abbiamo abbracciato la categoria e il progetto Manfredonia ci sono delle motivazioni che sono motivazioni importanti, sono realtà che secondo il mio parere Manfredonia è una piazza che dovrebbe stare in categoria superiore. Fabio Moscelli, DS, più Pasquale De Candia, allenatore, insieme hanno fatto benissimo a Gravida, raggiungendo la salvezza in Serie D dopo aver ereditato una situazione di classifica complicatissima. Il mister io l'ho avuto anche come allenatore quando ero calciatore, una persona che rispetto tantissimo, sia a livello umano ma è un allenatore molto preparato e sono contento, non mi piace dire, andavolo a 10, ma sono sicuramente contento perché tante cose la pensiamo nella stessa maniera, siamo due persone che sono maniacali, sono due persone serie che vogliono fare le cose fatte per bene, se no siamo due persone che se non c'è serietà, se non c'è programmazione in qualcosa che si fa e si deve credere fortemente preferiamo fare un passo indietro. Il mercato del Manfredonia in vista del prossimo campionato di eccellenza ha già portato al Miramare tanti nomi di spessore per la categoria che hanno riacceso l'entusiasmo dei tifosi. Arriverà sicuramente un altro attaccante e poi c'è da sistemare la batteria dei portieri. Il mio obiettivo è dargli al mister la possibilità di giocare sia con l'under che con l'over, ovviamente cercheremo di soddisfare il mister e questa è la nostra intenzione. Ovviamente poi per quanto riguarda la piazza che c'è entusiasmo, io sono molto felice di questo perché probabilmente apprezzano quello che stiamo facendo, apprezzano i sacrifici del Presidente, apprezzano il nostro lavoro fino ad oggi, ma noi speriamo e vogliamo fortemente creare ancora di più entusiasmo per far sì che loro veramente possano essere il dodicesimo uomo in campo perché conosco bene quello stadio e sicuramente loro possono essere una marcia in più.